mettetevi comodi perché il viaggio nel tempo è partito è quello che fino al 4 settembre caratterizzerà il parco divertimenti presso il vallone ad acquido un'area aperta alle famiglie a giovani un viaggio fra diverse epoche storiche sarà un evento di richiamo un evento che fa bene al territorio fa bene all'epoca e al periodo che abbiamo vissuto che viviamo di noi questo siamo orgogliosamente fieri siamo certi di poter offrire uno spunto e un'estate diversa donando il sorriso ai bambini donando la gioia il divertimento in una location che fa invidia perché è meraviglioso essere qui al vallone di aquino che ormai è apprezzato amato da tutti l'evento è stato voluto dall'azienda metalux dei fratelli gianni e fabrizio meta le peculiarità riguardano sia l'utilizzo di nuovi dinosauri uno dei quali che si anche anima che si muove e poi gli spettacoli che sono il fulcro il punto centrale del parco ci sono tanti attori nelle vesti di indiani di cowboy di egiziani c'è la nostra mascotte il dottor lux che è lo scienziato pazzo che ha creato questo parco grazie ai suoi viaggi nel tempo il parco divertimenti è un esempio di sinergia tra pubblico e privato e si prevede un afflusso massiccio di presenze è la prima volta che l'amministrazione impegna quest'area per un progetto così lungo nei mesi estivi quindi auspichiamo che ci sia un grande riscontro di pubblico di cittadinanza e speriamo che crediamo che gli utenti che verranno numerosi avranno anche la possibilità il pretesto per visitare anche altre bellezze grande manifestazione che attirerà sicuramente tantissime persone tantissimi turisti qui ad aquino apprezzare oltre a questo bellissimo villaggio anche altre bellissime prospettive a livello sia turistico che culturale l'iniziativa mira a valorizzare aquino e tutta la ciociaria sì ma ormai noi stiamo ragionando come aria vasta insieme al libero mazzaroppi che è un altro dei precursori di questo diverso atteggiamento di vivere il territorio sono qui proprio perché questa è una bellissima iniziativa che tra l'altro coinvolge un'azienda di rocca secca che è la offerta complessiva globale spero che i cittadini della provincia le famiglie e bambini rispondano a questo invito perché è davvero un'occasione unica a portata di mano per tante famiglie che casomai percorrono chilometri per vivere un'esperienza di questo tipo oggi a aquino e quindi è dietro l'angolo io sono il dottor lux e questo è il mio parco io qui ho voluto riunire tutti i personaggi degli innumerevoli viaggi che ho fatto ciao 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 mamma